Rieccoti di nuovo assieme in una nuova digressione casuale. Cosa sono le digressioni casuali? Come al solito, sono quei flussi di pensieri che mi vengono di getto e che mi costringono quasi ad accendere una telecamera e mettermici di fronte e quindi registrare questo flusso di pensieri. Bene, qual è il flusso di pensieri che oggi mi stava scappando e che ho dovuto registrare? E' un flusso che mi ha portato a comprendere quanto io fossi in errore. Cioè, mi sono reso conto in questi ultimi anni in cui, se mi conosci, forse avrai già visto dei miei video, conosci un po' la mia missione, sai perché esisto, sai cosa voglio fare, sai qual è il mio obiettivo nella vita. Beh, se non lo sai, quello che sto cercando di fare da 20 anni ormai a questa parte, ma soprattutto negli ultimi 5-6 anni che mi sono dedicato completamente a questo, è quello di risvegliare le persone da questa sorta di anestesia in cui si ritrovano per portarli a superare i loro blocchi, paure, tutto ciò che è stato costruito artificiosamente, e questo lo spiego poi nel salto quantico, attraverso tutta una serie di illusioni, al fine di poterti in qualche modo assopire, anestetizzare, controllare, far sì che tu possa diventare, tu o chi per te, insomma, parlo in un tu ideale, che tu possa diventare una sorta di pecora al servizio di chi vuole il controllo totale. Su questo ne ho parlato tantissime volte, ci sono diversi miei video di domande, risposte, del salto quantico, di digressioni e altre. Il problema fondamentale è che per quanto io sia riuscito, attraverso i video, attraverso quando facevo i corsi dal vivo, ora ne faccio veramente pochi, sono riuscito ad aiutare decine di migliaia di persone, ma sono ancora poche. Sono ancora poche perché? Perché una cosa è un semplice aiuto, ovvero riesco a superare una situazione, magari sto male, riesco a superare questa situazione di dolore, ho una malattia, riesco a guarire da questa malattia. Questo però non vuol dire ottenere una vita nuova, serena, felice, piena di abbondanza e senza più paranoie e seghe mentali. È ben diverso. Una cosa è aiutare qualcuno a superare una situazione o a vivere meglio? Vivere un po' meglio, ma detto tra noi, nel momento in cui uno vive da affamato, sta meglio anche se gli dai una briciola di pane. Diverso invece ottenere una vita, trasformare la propria vita in un vero e proprio capolavoro, fare quello che si vuole della propria vita, seguire il proprio percorso, evolvere, crescere e fare tutto ciò che in qualche modo ci fa star bene a noi e agli altri. Una delle cose che ho imparato durante il mio percorso è che tantissime persone, è vero si avvicinano, è vero no, è vero cominciano a studiare, è vero cominciano a crescere, evolvere, a comprendere come sono fatti, a lavorare un po' su se stessi, a superare quei primi strati, a ripulire quei primi strati di robaccia, di immondizie sedimentata per anni all'interno della nostra mente e del nostro corpo. e in qualche modo cominciano ad evolvere, ma restando sempre nel loro stesso ambiente si ritrovano comunque reinondati da tutta una serie di dinamiche, di processi, di schemi che in qualche modo dopo un po', volente o nolente, li fanno ritornare all'interno di qualche loro vecchio schema. Su questo ne ho parlato tantissimo, l'ambiente è estremamente condizionante, ma non possiamo costringere tutti a cambiare ambiente da una parte all'altra del mondo per poter evolvere e comunque sia, la propria evoluzione, la propria crescita non è un qualcosa che accade in un istante. Purtroppo una delle domande più classiche che mi vengono poste è qual è il video esatto che mi cambia la vita? E ce n'è uno solo, che è la tecnica che risolve qualunque cosa, che è una delle digressioni che ha avuto più successo, è in assoluto il video che è stato visto di più, perché la gente vuole quello, perché la gente vuole la bacchetta magica, vuole qualcuno, ricevo domande di persone che mi dicono, ma tu non potresti in una sessione mandarmi in ipnosi così che io non mi ricordo più niente, mi cancelli tutto, mi metti qualcosa di nuovo e mi togli tutto quello che non va bene. No, no, perché uno, io non potrò mai fare una cosa del genere, ammesso di non concesso che fosse possibile, non sarei io a doverlo fare perché non sono io quello che sa quello che è giusto per te, ma sei soltanto tu. E la cosa ancora più interessante è che quella parte di te che sa esattamente qual è ciò che è giusto per te, ciò che è meglio per te, è quella che in qualche modo ti porta davanti tutta una serie di eventi, persone, a volte problemi, a volte malattie, che ti servono appunto per farti trovare il tuo percorso. Possiamo ovviamente dare la colpa agli altri, oppure possiamo prendere atto che siamo noi ad attirare tutto ciò che ci accade, noi, la nostra parte più profonda che vuole portarci sul giusto percorso, prendere atto di ciò, iniziare ad alzare il sedere dalla sedia, a metterci in gioco, a sporcarci le mani e a fare quello che dobbiamo fare per poter tornare o meglio, a volte andare sul nostro percorso. E il problema è che tutte queste parole sono vere, sono belle, sono giuste, sono fighe, ma, ma, c'è un ma enorme, grosso così, in cui io mi sono scontrato per migliaia e migliaia di volte, ma, ma, la gente non ha bisogno di risvegliarsi, la gente ha prima bisogno di mangiare. Cosa intendo per mangiare? Un mangiare metaforico, attenzione. Per capire meglio questo pensiero ti faccio una domanda. Immagina di essere tu una persona sulla strada del risveglio, della spiritualità, interessato a tutte queste tematiche, a voler crescere, evolvere, ti reputi una persona estremamente, come dire, evoluta, magari, o comunque sulla strada dell'evoluzione, aperta a tutti questi temi. Bene, per un caso strano, ti ritrovi all'interno di una foresta equatoriale, dove sei finito lì, magari perché è cascato un aereo, inventati qualunque cosa, rimane il fatto che tu sei da solo in questo posto dove non c'è anima viva, e non mangi da 20 giorni. Quindi immagina di ritrovarti quasi sul punto di morire, dove mangeresti qualunque cosa disponibile pur di soddisfare il tuo bisogno di cibo e di nutrimento, non sai più come fare, l'unico tuo bisogno reale è quello di soddisfare la tua fame, la tua fame fisica, la tua fame di cibo, la tua fame che soddisfa il tuo bisogno di nutrimento. Ebbene, in quel momento, mentre sei sull'orlo della morte, di fronte a te trovi il più grande sciamano di tutti i tempi, che potrebbe rivelarti i misteri del mondo, potrebbe insegnarti come tramutare l'energia in cose materiali. Insomma, questo sciamano che potrebbe insegnarti di tutto di più è un enorme tacchino arrosto, o se sei vegano o vegetariano, un enorme piatto di verdure grigliate. Bene, che cosa fai? Cosa fai? Ti avventi verso lo sciamano e digli, ti prego, riempi la mia mente di informazioni, insegnami tutto il tuo sapere, oppure, visto che non mangi da 25 giorni, ti mangi prima le verdure grigliate e poi lo sciamano? Probabilmente la seconda che ho detto. Probabilmente appena vedrai del cibo dello sciamano non sai cosa fartene, perché non è più una tua priorità, perché l'informazione, la crescita, l'evoluzione, la spiritualità non è più una tua priorità, perché la tua priorità è soddisfare il bisogno primario, il cibo. Bene, ora cambia questo, cambia la parola cibo, quindi cambia il tacchino allo spiedo o le verdure grigliate con bisogni primari. Bisogni primari che però non sono più nella nostra mente i classici bisogni primari, quindi mangiare, bere, avere un tetto che ci dia sicurezza, eccetera. Ma i nostri bisogni primari diventano altri, diventano quelli, di cui io poi parlo nel salto quantico, che sono i bisogni indotti, i bisogni costruiti, i bisogni che ci hanno inculcato sin da piccoli. E quindi diventano il bisogno di apparire, il bisogno di essere migliore degli altri, il bisogno di essere accettato dagli altri, il bisogno di essere riconosciuto, il bisogno di avere delle conferme, il bisogno di essere ammirato a volte, insomma tutta una serie di bisogni finti, installati, che gli animali non hanno ma che gli umani sì, o meglio gli sono stati infilati apposta ai fini di controllo, che poi spiego nel salto quantico, non ti voglio ripetere altre cose. Tutti questi bisogni influenzano enormemente le nostre scelte. E prima di tutto, appunto, come degli affamati, noi dovremo rispettare e soddisfare quei bisogni prima di tutti gli altri. Bene, è stato questo l'errore che io ho fatto in questi anni. Pensare che le persone volessero svegliarsi. In realtà le persone volevano prima mangiare, perché ricorda che tu vai a dormire dopo che stai a pancia piena, e dopo che stai a pancia piena dormi, e quando hai dormito a sufficienza vuoi svegliarti. Questa stessa metafora è un po' per la nostra mente, per la nostra spiritualità, per il nostro risveglio. Il risveglio tu ce l'hai quando stai a pancia piena, perché se tu non stai a pancia piena, se tu hai bisogno di qualcosa, hai bisogno di conquistare il tuo uomo o la tua donna, hai bisogno di pagare le bollette, hai bisogno di riuscire a superare, che ne so, il tuo capo che domani ti sta proprio qui eppure lo devi sopportare tutti i giorni, i tuoi genitori, i tuoi figli, i figli che non fanno quello che dici tu, i cani che non fanno quello che dici tu, il mutuo che non so come farlo a pagare, mi hanno licenziato, il lavoro che non mi piace, eccetera, 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 bene, quelli sono i nostri bisogni primari, quelli diventano le nostre fonti di manipolazione, di stress, quelli che in qualche modo ci generano così tanta chimica negativa che ci avvelenano la mente, che ci offuscano la mente, è un po' come se noi stessimo costantemente in una sorta di attacchi a fuggi, quindi di stato di stress, sai che quando c'è una sorta di stato di stress, un po' come quando tu vedi il leone di fronte, tu entri in uno stato di fly or fight, quindi combatti o fuggi, o freeze, si dice combatti, fuggi o ti congeli, quindi sei in uno stato tale di stress che non stai lì a pensare cosa devo fare domani o la lista della spesa, o c'ho il corso domani del più grande guru del mondo, no, pensi soltanto a scappare dal leone. Bene, nel nostro caso pensiamo a scappare dai debiti, pensiamo a scappare dal capo, pensiamo a scappare dal ragazzo o dalla ragazza, pensiamo a dover controllare che le cose c'accano, che le cose vadano come diciamo noi, insomma tutta una serie di cose che probabilmente conosci benissimo. Bene, in questo stato di stress viene veramente difficile poter risvegliare una persona, ecco perché questo è stato il mio errore, ero convinto che la gente fosse pronta a svegliarsi, in realtà le persone prima di poterle risvegliare, prima di poterle insegnare a trovare il proprio dio interiore, prima di poterle insegnare a entrare in connessione con la propria parte profonda, in connessione con la propria anima, in connessione con la coscienza collettiva, in connessione col mondo, a canalizzare la propria intuizione, le vibrazioni esterne, interne, bla 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 bla, prima di poter fare tutto questo bisogna prima soddisfargli i bisogni primari. I bisogni che sono quelli che in qualche modo generano più stress alle persone, che quindi gli ottundono il cervello, glielo offuscano, non gli fanno pensare, viene difficile poter dire a una persona, resta una giornata con te stesso in silenzio e al buio, e vediamo se ci riesci, e resta con te stesso, senza telefonini e senza niente, e resta solo con te stesso in silenzio e al buio, ti posso garantire che la maggior parte della gente non riuscirebbe a starci più di un'ora, perché stando in silenzio con se stessi e al buio, tra l'altro, quindi magari anche ben dati, o se non si ha a disposizione una stanza particolare per farlo, prova a stare con te stesso, così ad ascoltare il tuo io interiore. Beh, tempo 10 minuti, la tua mente comincerà, 10 minuti è già tanto, la tua mente comincerà a viaggiare su tutti i vari problemi, su che cosa sta accadendo, chissà se mi ha scritto, oddio cosa sta succedendo su facebook, avranno messo il mio mi piace, domani c'ho il capo, la bolletta, eccetera, 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 e tutta quella serie, insomma, di problematiche che poi chi più chi meno ha nella propria vita. Tutte cose che, passatemi il termine, possono essere identificate come delle sege mentali. È vero che il mutuo non è una sega mentale, è vero che è una malattia, non è una sega mentale, ma in qualche modo, ad un punto di vista più profondo lo è comunque, perché se sono arrivate, te le sei in qualche modo chiamate te, se le hai chiamate te, in qualche modo c'era qualcosa che dovevi soddisfare o capire, nel momento in cui le comprendi o lo capisci, quelle problematiche non hanno più senso di esistere. Ma questo discorso è saggio, è vero, il problema è che come posso farti, o meglio insegnarti, come risolvere queste problematiche, se tu per primo non sei in grado, ripeto, il tu è un tu ideale, non sto parlando a te come te, persona che mi stai ascoltando, ma è un tu ipotetico. Come posso fare a insegnarti come risolvere determinate cose se la tua mente non è pronta ad ascoltarmi perché inondata da questa chimica negativa generata dallo stress? Non mi ascolti! La capacità di trattenimento delle informazioni, di messa in predica delle informazioni, di ricordo delle informazioni diventa minimo. E c'è gente che segue i video, fa i corsi, legge, dice, e poi alla fine trattiene veramente poco, e di quel poco che trattiene ancora meno mette in pratica. Quindi il mio grande errore era questo, io cercavo di svegliare la gente, di insegnare alla gente che ancora era piena di stress, era piena di bisogni. E allora... già ho parlato troppo come al solito. Allora cosa mi sono detto? Ho detto, vediamo un po' quali sono i veri bisogni primari, vediamo cosa devo fare per poter rendere le persone pronte a potermi almeno ascoltare e trattenere quelle informazioni, per poter avere loro il tempo di mettersi in gioco, di poter lavorare su se stessi. Perché c'è da dire anche questo? Il sistema, quello di cui sempre parlo nel salto quantico, ha fatto in modo che il nostro tempo venga dedicato al sogno di qualcun altro. Perché nel momento in cui lavoriamo cinque giorni a settimana, nel momento in cui dedichiamo cinque giorni a settimana, o a volte anche sei, al desiderio, al sogno, alla missione, all'azienda di qualcun altro, per qualche spicciolo al mese, e non abbiamo più tempo per noi. Perché quel poco che ci rimane, dobbiamo fare quello che ci serve per vivere. E quando diavolo ce l'abbiamo, tempo per lavorare con noi stessi. Perché non ti dimenticare, lavorare su se stessi non è una roba da un minuto. Ci abbiamo messo 20, 30, 40, 50, 60 anni per raccogliere immondizie nella nostra testa, e cosa pensi? Che arriva un enorme vagone e in un attimo si porta via tutto? No, non ti dico che ci vorranno altri 30, 40, 50 anni per poterla ripulire, ma ci vuole del tempo. Ci vuole del tempo perché alcuni strati sono molto nascosti, un po' come lo strato di una cipolla. Togli uno, ne appare un altro, togli uno, ne appare un altro, e a mano a mano che vai un po' più dentro, tra l'altro ti viene anche più da piangere. Nel senso che rischi di trovare quelle cose più profonde, più nascoste, che potrebbero generare dolore, ma che è un dolore che in qualche modo, nel momento in cui lo riconosci, lo puoi risolvere, lo puoi comprendere, lo puoi accettare, lo puoi ringraziare e puoi andare oltre. E come faccio a spiegare tutto questo? Se nella testa c'è sì, vabbè, ma io domani, cioè, guarda, io ti sto guardando il video a quest'ora, ma devo andare a dormire perché devo andare a lavorare domani mattina, perché se no non riesco a pagare il mutuo. E questo è il problema, e questo è il problema. Ecco perché il risultato di quello che io, ma tanti altri come me, possono darti, diventa minimo, perché in qualche modo non sei pronto a ricevere. Allora devo darti il modo per poter essere pronto a ricevere. Quindi devo soddisfarti due problemi di fondo, quelli più grossi. E qui ti invito a fare un test. Ti invito a mettere su carta, magari, se vuoi, tutto ciò che ti genera stress, oggi. Tutto ciò che in qualche modo non ti dà la serenità, la pace, la tranquillità. Che ne so, il lavoro, il denaro, la malattia, il controllo, i genitori, il compagno, la compagna, i figli, il cane, qualunque cosa, il vicino di casa, qualunque cosa. Bene, mettili tutti quanti su un foglio di carta, se vuoi. E dopodiché ti invito a fare una cosa. Racchiudi tutte queste fonti di stress in macrocategorie. Io ho identificato, secondo me, correggimi se sbaglio, perché magari posso aver sbagliato qualcosa, io ho identificato due macrocategorie, che sono le due fonti di stress maggiori. Ovvero, le relazioni, quindi la mancanza di relazioni appaganti, e il denaro. Attenzione, mancanza di relazioni appaganti non vuol dire soltanto la relazione col compagno, la compagna, o chissà che cosa. Ma relazioni in genere. Per relazioni si intende col capo, con i genitori, con me stesso, perché mi potrei dire, e vabbè, ma io sono malato, che relazione è quella? La malattia è una relazione con te stesso, con il tuo corpo. E quindi, se il tuo corpo è malato e tu non accetti la malattia, la relazione col tuo corpo non è appagante. E anche in questo caso parliamo di relazioni appaganti. Quindi, relazioni appaganti e denaro. Denaro, questo enorme spauracchio, qui viene, qui si potrebbe aprire un mondo sul denaro. Perché il denaro? Perché è bellissimo, a volte sento le persone che dicono, come tu che parli di spiritualità, tu che parli di risveglio, tu che parli di anima, tu che parli di tutto questo, mi viene a parlare di denaro. E qui ci sarebbe da fare una piccola osservazione. Ciò che voglio ricordare alla gente è che, se sei venuto su questo piano terreno con un corpo fisico, ne devi rispettare determinate regole. E se ti sei incarnato in un corpo fisico che vive in un mondo che è stato basato sul denaro, tu, volente o nolente, se vorrai fare qualcosa, avrai bisogno di denaro. E se non ce l'avrai, questo ti genererà stress. Ti posso garantire che le persone che evolvono più velocemente sono quelle che non hanno problemi di denaro, perché hanno tutta una fonte di stress che non esiste. Perché quella è risolta. Quindi mi sono reso conto che quanto più denaro hai, cioè quanta più indipendenza finanziaria hai, tanto più hai tempo per lavorare su te stesso e per dedicarlo agli altri. Perché questa è la cosa fondamentale. Nel momento in cui una persona ricca entra in un mondo di evoluzione, di risveglio, di crescita e di servizio agli altri, una persona ricca ti posso garantire che fa molto di più di una persona povera. Perché, dimmi quello che vuoi, ma nel momento in cui hai abbondanza, questa abbondanza, quando ti liberi da tutte le tue seghe mentali, quindi non hai più bisogno di avere un Rolex al polso, non hai più bisogno di avere 12 macchine e 28 ville, quando non hai più bisogno di tutto questo, che cosa te ne fai del denaro, se non metterlo a disposizione degli altri? A volte a questa gente che mi dice, ma come tu parli di spiritualità, il denaro, non dovresti toccarlo, mi hai deluso, perché il denaro, perché di qua, perché di là? Bene, a queste persone io consiglio di fare una cosa, di fare un esperimento, di mettersi tutti assieme, quelle persone che pensano che il denaro è il diavolo e che non bisogna mai parlare di denaro. Bene, a queste persone chiedo di fare un esperimento tutti assieme, di mettersi all'interno di una stanza e di meditare per una settimana intera affinché milioni di bambini che non mangiano dalla mattina alla sera vengano magicamente soddisfatti nel loro bisogno di cibo, quindi che improvvisamente, grazie alla loro meditazione, tutti i bambini del mondo, quelli poveri, quelli che non hanno cibo a sufficienza, vengano saziati. E questo è l'esperimento che chiedo di fare. A tutte le persone che rinnegano il denaro, che dicono che è il diavolo, che dicono chissà che cosa, innanzitutto lo rinnegano dopo che sono a pancia piena perché hanno già mangiato, perché queste cose a volte mi vengono dette durante delle cene dove hanno appena mangiato e mi dicono ma come parli di denaro? Sì, lo stesso denaro che hai appena usato per mangiare, perché se no non mangeresti. Ma senza di quello, anche se tu stessi lì a meditare per giorni, giorni, giorni e giorni, ti posso garantire che i bambini che muoiono per mancanza di cibo continuano a morire, malgrado tu mediti tutto il giorno. Quindi potete essere spirituali quanto volete, ma non è con la spiritualità che si aiuta il mondo a vivere meglio. Una delle persone che è stata per me, la persona forse più importante per il mio cambio di paradigma mentale, è stata Amma. Amma è questa santa indiana che va in giro per il mondo ad abbracciare la gente, sembra che il suo abbraccio sia terapeutico, e raccoglie miliardi, letteralmente miliardi di euro, di dollari, di fondi. Bene, questa donna mette a disposizione i suoi miliardi, a disposizione la gente che ha bisogno. E in India ci sono scuole, orfanotrofi, università, ospedali, completamente gratuiti, grazie al fatto che lei li ha costruiti con i soldi che le sono arrivati dalle donazioni. Quindi questo è l'esempio di una delle persone più spirituali del mondo, parliamo di Amma, una santa, che ha messo a disposizione il suo potenziale, la sua ricchezza, la sua capacità per dare davvero aiuto agli altri. Non mentale, non con una preghiera, ma un aiuto fisico, un aiuto materiale. Non ci dimentichiamo che madre Teresa di Calcutta, quando è morta, se non ricordo male, aveva 6 miliardi di dollari di patrimonio, era una delle donne più ricche del mondo. E non possiamo dire che madre Teresa non fosse spirituale. Quindi, ricordiamoci, secondo me il concetto di spiritualità deve essere visto come una sorta di equilibrio. Equilibrio che ti permette di vivere in equilibrio in ogni parte della tua vita, in ogni ambito della tua vita. E la parte terrena, quella dell'ego, quella della materialità, deve essere comunque soddisfatta. Ti posso garantire che, se io non vivo bene, non posso fare quello che sto facendo. Ti posso garantire che, se non c'è una qualità della vita valida, non puoi stare bene in maniera tale da metterti al servizio degli altri. Quindi, prima, sto bene io, se sto bene io, posso dare una mano a te. Ma se io stessi male adesso, non starei qui dietro la telecamera a usare il mio tempo per passarti qualche informazione. Starei a letto magari a cercare di guarire. Quindi, le due fonti grosse di stress sono il denaro e le relazioni. Non ci sono santi, almeno per quanto mi riguarda. Poi, se trovi qualcos'altro, ben venga. Magari scrivimelo nei commenti, così magari nella prossima digressione ne parlerò. Relazioni appaganti. La capacità di poter avere persone, di poter frequentare, di poter essere circondato da persone che vibrano la tua stessa frequenza, che la pensano come te, che non ti criticano, che non pensino che tu sia matto solo perché, che ne so, parli con gli angeli o vedi le madonne, che ne so. persone che puoi parlare di legge d'attrazione, puoi parlare di fisica quantistica, puoi parlare di sci e chimiche, puoi parlare di quello che vuoi senza essere preso per matto perché sono sul tuo stesso percorso. In quel giro di relazioni diventa più facile creare rapporti di conoscenza, di amicizia, di sesso, di quello che vogliamo, di lavoro, di tutto. E di sicuro così facendo saranno più appaganti di semplici relazioni con persone, che non sono sul nostro stesso percorso. Quindi relazioni appaganti e denaro sono le due fonti primarie che bisogna soddisfare prima di poter andare a livello successivo, cioè prima di cominciare a dedicarci completamente a noi stessi e agli altri. Quindi immagina di avere un domani, di essere circondato da persone che sono come te, che la pensano come te, che ragionano come te, con cui magari studiare assieme, supportarsi assieme, lavorare assieme, lavorare mentalmente su se stessi e sugli altri, aiutare gli altri assieme, portare avanti dei progetti benefici, umanitari, fare qualcosa tutti assieme per se stessi e per gli altri. E allo stesso tempo avere flussi di denaro tali da non dover più lavorare. Bene, secondo te, nel caso in cui tutto questo si realizzasse, non sarebbe molto più facile dedicarsi a se stessi, al proprio lavoro mentale, a risolvere, a crescere e poi aiutare gli altri, chi ne ha bisogno come noi e chi davvero ha altro tipo di bisogni, perché i nostri bisogni sono avere una pace interiore, una serenità interiore, dall'altra parte del mondo magari, ma neanche dall'altra parte del mondo, basta scendere anche sotto le nostre case, ci sono persone che hanno bisogni diversi, hanno bisogno di arrivare, di raggiungere il giorno dopo, di mangiare, di bere e di soddisfare quei bisogni che noi abbiamo già normalmente soddisfatti, ma di cui a volte non ci rendiamo neanche conto e non apprezziamo neanche né ringraziamo per tutto quello che abbiamo. In questi anni ho incontrato tantissime persone e mi è capitato tra queste di trovare persone davvero speciali, persone che sono pronte per darsi agli altri, sono brave a dare agli altri, sono brave a insegnare, a crescere, a migliorare, ad aiutare persone che potrebbero fare tutto questo dalla mattina alla sera ma non potevano, non potevano perché indovina un po', dovevano lavorare, perché dovevano portare qualche soldo a casa, perché dovevano soddisfare i loro bisogni e quindi mi dicevano come posso aiutare gli altri gratuitamente e come faccio a mangiare, come faccio a pagarmi il mutuo, come faccio ad avere una casa, come faccio a pagare la macchina, come faccio a pagare questo e quest'altro e alla fine angeli terreni che qui potrebbero fare tantissimo, sono costretti a essere ammanettati a qualcosa che purtroppo ci è stato costretto, infilato da questa società. Purtroppo questa società è costruita così, quindi bisogna rispettarne le regole, non se ne può uscire, non puoi giocare a un gioco cambiandone le regole. se vivi in questa società devi rispettarne le regole, al massimo le puoi usare a tuo favore ed è questo il bello. Se poi vedrai ad esempio il corso sul denaro che sto facendo, gli spiego proprio quali sono le regole per giocare al gioco del denaro vincendo e non perdendo, quindi non diventando uno schiavo ma diventando una persona che comprende le regole dei grandi per poter sfruttarle a proprio favore in maniera tale da creare rendite automatiche così da non aver più bisogno di di dover lavorare e poter dedicare il proprio tempo a se stessi e agli altri. Bene, compreso che relazioni e denaro sono i due problemi fondamentali ora io mi sto muovendo su questo. Mi sto muovendo per soddisfare questi due bisogni a ognuno di voi cioè dare la possibilità a tutti di avere relazioni appaganti di avere persone ma non soltanto online parliamo di incontri reali già esistono in Italia incontri gruppi che si stanno vedendo ogni settimana ogni mese e che crescono sempre di più per incontrarsi per conoscersi per scambiarsi informazioni formazione per crescere assieme per creare progetti assieme per aiutare se stessi e per gli altri questi gruppi diventeranno sempre di più anzi se vorrai essere una delle persone che vorrà organizzare nel proprio che vorrà mantenere il gruppo nella propria città scrivimi perché stiamo facendo anche questo adesso oggi che sto registrando e siamo alla fine di marzo del 2016 quando sto registrando questo video si stanno muovendo tanti tanti progetti per soddisfare appunto questi bisogni le relazioni appaganti e il denaro per tutti dopodiché con quelli soddisfatti andremo a crescere evolvere risolverci le nostre problematiche interiori i nostri limiti i nostri blocchi le nostre malattie e poi trasportare tutto questo agli altri e far sì che sempre più persone possano vivere meglio e rendere la propria vita un capolavoro oggi come oggi a fine marzo del 2016 mi sto muovendo per realizzare tutto questo prendo atto del mio errore e cambio completamente la mia strategia non saranno più soltanto video online come già ci sono e ce ne saranno sempre di più ma entreremo in qualcosa di molto più concreto per soddisfare e per darti relazioni appaganti e denaro a sufficienza se hai letto il mio libro sveglia alla fine del mio libro io nel lontano ormai 2010 2011 quando l'ho scritto parlavo di un mio sogno il sogno di creare un'armata di angeli risvegliatori che in tutto il mondo potessero aiutare la gente appunto a svegliarsi a vivere meglio e mettersi al servizio degli altri questo lo scrivevo nel 2011 oggi è arrivato il momento di creare davvero questa armata di angeli risvegliatori gli angeli risvegliatori sono degli angeli terreni angeli che in qualche modo persone normali comuni come me come te che si mettono al servizio degli altri ma per metterti al servizio degli altri devi prima stare bene te devi stare in uno stato di coerenza devi essere in grado e coerente con quello che dici e che fai devi esserti tu già ripulito in uno stato di serenità e di equilibrio e allora potrai aiutare gli altri a fare lo stesso bene questi sono gli angeli terreni il mio obiettivo è di creare questa vera e propria armata e chissà che forse uno di questi angeli potrai essere proprio tu non a caso ho voluto creare un progetto nuovo che raccoglierà tutto questo che ho detto quindi che si muoverà proprio su questo fine su questi obiettivi di base come obiettivi primari perché poi ci saranno obiettivi ben più grandi che saranno simili a quelli di cui prima ti ho raccontato di AMA quindi operazioni umanitarie vere grandi importanti costruzioni di ospedali di orfanotrofi ma per questo avremo bisogno di tanti 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 fondi ma questo è quello che voglio realizzare e per fare tutto questo per soddisfare i tuoi bisogni in maniera tale che tu possa dedicarti a te stesso e agli altri e così dedicandoci agli altri assieme creare operazioni umanitarie dall'altra parte del mondo o comunque sotto casa nostra per soddisfare quei bisogni a quelle persone che davvero non hanno neanche da mangiare o da curarsi bene per fare tutto questo ho bisogno di angeli e questo progetto l'ho voluto chiamare con una parola maori che vuol dire esattamente angeli angeli in lingua maori si dice anahera ed è su questo principio che nasce questo grande progetto non è questo il video in cui voglio spiegarti che cosa sarà e come funzionerà anahera ma semplicemente sappi con questo video che prendo atto del mio errore prendo atto delle mie mancanze prendo atto di quello che non ho compreso di molti di voi fino a oggi e mi sto muovendo concretamente e quotidianamente per poter ripagare questo mio errore per poter mettere una toppa a questo mio errore e per poter finalmente dare a tutti la soddisfazione di quello che vogliono e finalmente tutti assieme muoverci su un altro piano di conoscenza e così che tutti assieme potremo trasformare le nostre vite in veri e propri capolavori e poter aiutare sempre più gente a poter fare lo stesso grazie grazie a tutti grazie a tutti